Stiamo cercando un'idea. Un'idea grande. Il design del bambino è il più difficile. Prima perché coesistono una tipologia molto diversa di progetti e obiettivi, come vanità, sanità sanitaria, scuola, braccia e bambini, che sono molto diversi da l'altro e molto difficili da combinare. Secondo perché il spazio del bambino è molto piccolo, probabilmente il più piccolo in casa, quindi può essere ancora più difficile. Emiata è una buona collezione con il fine neoclassico. Con questo progetto, vogliamo riedefinire l'idea e l'essence del neoclassico. Ogni obiettivo è come un ingrediente. bisogna balanzare l'idea in una buona ricetta. Come un chef. Abbiamo solo un buon ingrediente. Amiata. Ora è per te. Buon appetito!